Buonasera, questo video per fare la consueta panoramica generale sulle principali piazze finanziarie internazionali a metà settimana, oggi giovedì 24 febbraio, sono le ore 16. Purtroppo oggi è scoppiata la guerra Russia-Ucraina e quindi le borse non possono far altro che risentirne con performance molto negative o molto positive per quanto riguarda altri asset come petrolio e oro che vedremo successivamente. Quindi in situazioni come queste più che vedere dei livelli e dei grafici è importante sapere come potersi comportare sul mercato. Innanzitutto è prevista un grosso aumento della volatilità nelle prossime sedute, nella prossima settimana, quindi conviene sicuramente operare in un'ottica intraday. Per quanto riguarda invece il multiday diventa più difficile, chi è in posizione deve stare attento agli stop loss, agli stop loss molto importanti, mentre invece chi non è in posizione ha due possibilità che sono una, quella di mettersi short sotto certi livelli perché lì probabilmente il mercato potrebbe nuovamente continuare a scendere e continuare a scendere e accelerare al ribasso qualora gli sviluppi di questa guerra fossero ancora peggiori e duraturi. Di sicuro l'unica cosa che non deve fare un trader multiday è quello di mettersi long. Questo non è proprio il momento di comprare azioni, anche se sono a sconto del 4, 5, 6, qualcuno 7%, né tantomeno avere la tentazione, come purtroppo so che capita, che è quello di mediare il prezzo di carico. Partendo dal Fuzzimib, il nostro derivato italiano, ieri ha perso il livello 26.000 e oggi ha saltato di netto l'importante livello 25.500 che era una resistenza supporto statico decennale, ha aperto in gap down che è ancora da chiudere e ha rotto a ribasso anche l'indicatore super trend. Sta scappando al ribasso, può accelerare, direi che a questo punto lo stop loss per i multiday o per l'apertura di posizioni short e può essere fatto solo sul livello 24.500. Questo è un livello molto importante perché andando indietro nel tempo corrisponde esattamente al minimo preciso e chirurgico toccato oggi nell'intraday ma anche toccato lo scorso 20 settembre, il 20 settembre del 2021. Da lì poi era partito un trend fortissimo al rialzo nel mese di ottobre che aveva portato le quotazioni fino a 27.800 e poi un ampio terry range che ci ha accompagnato in questi mesi. Però è chiaro che questo al momento, fermare stando e cristallizzando la situazione adesso, il 24.500 è un doppio minimo, è un supporto importante ed è un livello chiave davvero spartiacque tra positività e negatività. Passando al Future Ducks invece è un mercato più debole rispetto al mercato italiano, già a suo tempo con la perdita della soglia dei 15.000 punti e ancora più decisivo, più in basso, la violazione del livello 14.800 con relativo pullback, il mercato ha accelerato a ribasso perdendo ieri il 14.500 e oggi addirittura nell'intraday andando sotto il 14.000. Quindi 14.000 diventa lo spartiacque importante del mercato, soglia psicologica dove andremo a vedere se sarà il caso di aprire nuovamente posizioni short sotto questo livello o aspettarci per le prossime sedute un rimbalzo. Comunque la prudenza è obbligo e come detto in precedenza in apertura, molto meglio l'operatività intraday e con qualche eventuale rimbalzo appunto durante la giornata piuttosto che l'operatività multiday perché potrebbe effettivamente accelerare a ribasso. Ricordo che nel marzo del 2020, causa pandemia, che come in questo caso causa guerra, si tratta di argomenti completamente diversi da motivazioni finanziarie, economiche, macroeconomiche in generale, la borsa ha perso il 40% in un mese. Potrebbe accadere lo stesso anche in questo mese di febbraio o anche nel mese di marzo, qualora gli sviluppi della guerra dovessero peggiorare rispetto alle prime avvisaglie viste questa notte e viste nella giornata e di oggi in continua evoluzione sulla base delle notizie. Quindi al peggio non c'è mai fine e noi dobbiamo essere prudenti. Quindi qualche long nell'intraday ma attenzione agli scossoni a ribasso che potrebbero essere davvero molto violenti e soprattutto avvengono di notte. Cioè i mercati e le borse aprono già con un gap down sul quale è difficile operare, è difficile se non impossibile chiudere lo stop loss. Dando uno sguardo oltreoceano Wall Street, mercato americano, lo Standard & Poor's 500, già ieri ha perso l'importante livello 4.300 che era un supporto importante e fondamentale, più volte realizzato, analizzato e guardato. Con questo quinto pro minimo verso la fine di gennaio e oggi ha toccato nell'intraday anche il 4.100. Ciò che sta avvenendo adesso nell'intraday è un timido rimbalzo. Se la situazione fosse cristallizzata da adesso, cioè se in chiusura ci trovassimo una candela come questa, questo è un hammer, un martello, è una figura di inversione e quindi potremmo pensare, e sperare che domani e nelle prossime settimane ci possa, prossima settimana in particolare, ci possa essere un rimbalzo, un tentativo di riavvicinamento a un 4.300. Ma ripeto, l'operatività long è meglio farla nell'intraday piuttosto che nel multiday, anche perché, ripeto, ci possono essere delle situazioni più grave che avvengono di notte, come i bombardamenti, per cui già al mattino ci troviamo con le borse che aprono con un meno 3, e un 4%, quindi non rimanere overnight. Come dicevo prima, ci sono anche degli asset che stanno andando molto bene. Questo è il petrolio, il crude oil, che ha finalmente raggiunto quei famosi 100 dollari al barile che doveva raggiungere. D'altro canto, molte banche d'affari americane ne avevano dato come target, avevano dato prima un 95 e poi un 100 dollari, e proprio oggi, nell'intraday, con lo scoppio della guerra, è stato raggiunto 154 il prezzo del crude oil. Oggi, questo massimo è molto importante, adesso sta un po' ritracciando nell'intraday, comunque siamo molto alti. Aspettavamo, dal punto di vista operativo, un livello di ingresso, prima un ritracciamento, magari sul livello 87,5, ormai è qualche settimana che lo dico nelle nostre analisi, per poi mettermi di nuovo in posizione long, non mi ha mai dato l'opportunità di entrare come buona occasione d'acquisto a prezzi più bassi, ma d'altro canto non me la sono sentita di comprare sul breakout di 95, perché lo ritenevo davvero troppo alto, non potevo sapere che questa notte la Russia invadesse l'Ucraina, o la bombardasse, per cui il mercato è andato, è scappato e così è. Per quanto riguarda le prossime sedute, probabilmente rimarrà ancora in un trading range, attorno al 97,100 e poi potrebbe esserci anche un attimo di tregua e di calma e tornare verso i 95. Comunque a questo punto la strategia mia rimane sempre la stessa. Mercato a rialzo perché il trend è rialzista. Può tranquillamente superare i 100 dollari al barilio. Ho visto recentemente un report che lo dava a 130, numero che sembrava esagerato, ma in realtà sembrava già esagerato, 80. In realtà l'ho ampiamente superato, ho raggiunto i 100 proprio oggi, per cui potrebbe arrivare anche a 130. Non lo contraddico, non lo metto in discussione. Certo è che per entrare io ho bisogno di un bel prezzo, di un buon prezzo che me ne faccia venire voglia. E io lo vedo solo sul livello, a questo punto il livello 90, dove passa la media mobile. Se mi torna a 90 e mi si appoggia su questo supporto, allora mi metterò nuovamente in posizione long, ritenendolo appunto una buona occasione di acquisto. Però in questo momento non ho intenzione di comprare sui massimi e ovviamente nessuna intenzione di mettermi short. Lo stesso discorso devo farlo anche per l'oro, il gold che questa mattina con questo grande spike rialzista è arrivato fino a 1975, non lontanissimo dalla soglia psicologica dei 2.000 dollari l'oncia. Adesso nell'intraday sta completamente ritracciando e completamente annullando tutti i guadagni della giornata e ovviamente sarebbe questo, fossimo in condizioni normali, un pattern di inversione, in questo caso un trend ribassista. Però è ancora molto presto per dirlo, credo che l'oro abbia acquistato già dall'inizio di febbraio di nuovo la propria caratteristica di bene rifugio e lo abbia fatto anche questa mattina più che dignitosamente. Se i sviluppi della guerra dovessero rimanere così negativi e non avessero, o non dovessero avere, come in realtà tutti ci auguriamo, una rapida soluzione e compromesso, credo che le quotazioni dell'oro dovrebbero rimanere ancora piuttosto alte e magari rivedere nuovamente, se non altro, a rialzo ancora il livello 1950. Quindi rimanere ampiamente sopra il 1900, che sembrava già un target importante, ma potrebbe arrivare nuovamente a 1950 e assessarsi assolutamente attorno a quel livello. E cosa fare dal punto di vista operativo? Direi al momento solo operatività long, appunto nell'intraday meglio che nel multiday, un long che potrebbe andare dalle quotazioni attuali 1920 a 1950. Di sicuro non è il caso di mettersi anche qui, come per quanto riguarda il petrolio, in posizione short. Infine uno sguardo al mercato valutario, il principale dei cross, l'euro-dollaro, è ovvio che non poteva far altro che scendere con grande rivalutazione del dollaro, la corsa al dollaro, come sempre avviene, anche in questo caso come bene rifugio, in caso di venti di guerra, che sono anche qualcosa di più di venti. Oltretutto c'è la famosa correlazione con l'oro, per cui tutto questo è assolutamente previsto e prevedibile. Lo dicevamo già da diverse settimane che l'euro-dollaro, già dal livello 1,1450, faceva fatica a continuare a salire, sebbene fosse ben impostato, e vi è stato un lento, lunghissimo ritracciamento fino ad arrivare ad appoggiarsi sulla propria media mobile a 25, lo ha sporcato diverse volte. Oggi, con quello che è successo, ovviamente il mercato valuta, euro-dollaro assolutamente, al ribasso, rottura dell'indicatore supertrend e avvicinamento pericoloso a questo minimo importante sul livello 1,11,20. Ecco, quindi bisogna stare molto attenti perché, a mio parere, l'euro-dollaro potrebbe continuare a scendere, potrebbe andare a 1,11, ma secondo me potrebbe andare anche leggermente sotto, quindi sporcare e violare anche questo supporto. Quindi sull'euro-dollaro assoluta negatività, magari domani o all'inizio della prossima settimana, magari vi potrebbe essere un leggero rimbalzo, magari fino a 1,12 come target intraday rialzista, perché, ripeto, un po' su tutti i mercati mi aspetto un rimbalzo o un ritracciamento a seconda dei casi per le prossime 2-3 massimo sedute e poi purtroppo la continuazione ribassista qualora la guerra dovesse continuare o, peggio ancora, aggravarsi. Io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e come al solito vi auguro buon trading.